io come take us down we take you down poi ti faccio vedere un video bellissimo questo è il mio power play se sei il te gonfiamoli con le panini cazzo arpiona 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 si arpiona arpiona eh no c'è zavorra zavorra vai zavorra 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 vai vai eh porco di brigantina abbattuta è andata si col TNT c'è qualcuno c'è qualche nemico in mare si hanno tesori arrivo eh mi accosto un po' attenzione che noi abbiamo del TNT ancora sulla nostra nave eh rimanete rimanete vigili sulla nostra tira l'anca non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma